L'ultimo episodio Un pacchetto con qualcosa di molto speciale nel suo stomaco e lei lo trasporterà per noi Si attenga alle regole e nessuno si farà del male Non sono dell'umore Si ritiene che noi usiamo solo il 10% delle nostre capacità cerebrali, ma... Se ci fosse un modo di utilizzare il 100% del nostro cervello... Cosa saremmo in grado di fare? Sì? Professor Norman, ho letto le sue ricerche sull'uso delle capacità cerebrali Sono elementari, ma è sulla strada giusta Grazie Sono capace di fare cose che non ho mai fatto prima Io sento... tutto E posso controllare gli elementi intorno a me È incredibile Ci dobbiamo incontrare Mi deve credere La sostanza chimica le permette di accedere a nuove aree del cervello Lei ha... dei poteri Non può finire nelle mani sbagliate È il momento di andare Signorina, non si muova! Metta le mani in alto, per favore! Le sue capacità cerebrali aumentano ogni minuto Cosa succede quando raggiunge il 100%? Non ne ho idea Ma lei è la chiave... Di tutto Guido io Ehi, ehi, ehi! Questa è un'auto della polizia!